Ciao a tutti cari amici di GZ Mobile, siamo qui in compagnia oggi di ISO Zenfone 4, dispositivo di fascia bassa della linea Zenfone. Il nome ci suggerisce le dimensioni, si tratta di un 4 pollici con tecnologia LCD, parliamo di un 480x854 pixel con definizione di 233 pixel per pollice. Parliamo di un low cost, si trova su online attorno ai 120-130€, quindi al costo piuttosto contenuto. Concentriamoci brevemente un attimo sulla confezione, soprattutto su quello che c'è all'interno. Questo è l'alimentatore da parete da 1.35A, devo dire che la ricarica viene in maniera veloce, soprattutto perché la batteria non è così capiente, si tratta di una 1600mAh. Queste sono le cuffiette in ear stereo, devo dire qualità ottima, riproduzione dei bassi, secondo me è eccezionale per essere cuffiette di un dispositivo da 120€. Le ho utilizzate quasi un mese come cuffiette principali e devo dire che la qualità mi ha sorpreso davvero tanto. Troviamo poi i soliti manuali che si trovano all'interno di tutte le confezioni e poi il cavo dati piuttosto lungo per trasferire i dati al nostro computer e per ricaricare il dispositivo. Ritorniamo nuovamente sullo Zenfone 4, parliamo un attimo di parte estetica, abbiamo nella parte frontale la capsula auricolare, la fotocamera da 0.3 megapixel che registra video in 480p, abbiamo tre tasti soft touch non retroilluminati, quindi di notte si fa un po' fatica a trovarli, abbiamo il tasto indietro home e multitasking. Nella parte sinistra abbiamo la porta micro usb, nella parte superiore abbiamo il jack da 3,5 mm, nella parte destra abbiamo il tasto blocco sblocco spegnimento del dispositivo e il bilanciere del volume. Nella parte posteriore abbiamo la fotocamera da 5 megapixel, provvista di autofocus, mentre non c'è il LED flash e abbiamo l'altoparlante di sistema, qui logo ASUS, logo Intel e logo Zenfone. La cover è removibile, abbiamo qui una feritoia per aprire facilmente la cover appunto, batteria removibile come detto prima da 1600 mAh, abbiamo lo slot per la micro SD qua a sinistra, l'altoparlante di sistema, qua in basso a destra abbiamo la feritoia per inserire la sim in formato micro. Devo dire che comprici le dimensioni piuttosto contenute, soprattutto la larghezza, come c'è anche la cover che offre un grip soddisfacente, il telefono in mano sta molto molto bene, non abbiamo problemi, non abbiamo effetto saponetta, il dispositivo non tende a scivolare. Procediamo, questa è la schermata di blocco che a me piace davvero molto, abbiamo una timeline, qua nella parte destra che ci segnala tutti gli eventi che abbiamo nel calendario, abbiamo la possibilità ovviamente di inserire una informazione sul dispositivo, io ho inserito il nome del nostro canale, qui abbiamo tre collegamenti rapidi che si possono modificare, abbiamo la fotocamera, il dial telefonico e i messaggi, che sono quelli collegamenti settati di default, abbiamo l'orologio e abbiamo anche il meteo e la sveglia. Sblocchiamo, qua abbiamo la Zen UI, interfaccia secondo me ben riuscita, soprattutto per quanto riguarda la velocità, come potete vedere non abbiamo lag, anche con molte applicazioni in memoria. Questo è il pannello delle notifiche, abbiamo una doppia visualizzazione, se slidiamo verso il basso nella parte sinistra, ci diamo al pannello delle notifiche, qua a destra invece abbiamo tutti i toggle e abbiamo anche i collegamenti rapidi a calcolatrice, appunto rapido e fotocamera, che si possono modificare come potete vedere. Se accediamo al dialer abbiamo la possibilità di collegarci velocemente al Play Store, di ricercare le applicazioni, di bloccare, nascondere le applicazioni, disinstallarle e di accedere alle applicazioni che abbiamo scaricato e a quelle che abbiamo utilizzato più di frequente. Quindi l'interfaccia è ben riuscita sia a livello grafico che a livello di ottimizzazione. Questo è il pannello delle impostazioni, il menu delle impostazioni, abbiamo Android 4.4.2 in versione KitKat, non so se verrà aggiornato all'Hollipop, però devo dire che su questa versione software il telefono gira senza alcun problema. Parliamo di antenne, di ricezione, non abbiamo l'LTE su questo dispositivo, la ricezione è ottima, io ho gestore 3 e con diversi dispositivi faccio fatica negli switch 2G e 3G, invece con questo non ho grossi problemi. Ricezione del Wi-Fi nella media, appunto non abbiamo l'LTE, ci fermiamo al 3G, al 42.2 Mbps in download e 5.76 in upload. L'altoparlante di sistema non offre un audio altissimo, però non abbiamo grossi problemi. In auto si fa fatica però a sentire. Informazione gratuita, il numero chiamato è inesistente. Come avete sentito l'audio non è alto, però non è gracchiante. Dial telefonico molto carino, abbiamo la ricerca rapida in rubrica, abbiamo la possibilità di accedere velocemente alla rubrica, ai preferiti, ai gruppi e qua abbiamo le chiamate bloccate. Quindi, devo dire, una parte telefonica piuttosto soddisfacente, audio non altissimo. L'interlocutore ci sente bene e noi sentiamo bene l'interlocutore, quindi insomma è una parte telefonica molto buona. Parliamo di display, accediamo al nostro counter box per prendere le immagini di test. Questo, come avete visto, è il nero, abbiamo uno sfondo nero. Nero che su me è molto molto scarso, tende tantissimo al grigio, come potete vedere, se incliniamo questa sua tendenza si accentua ancora di più. I colori sono naturali, forse un pello smorti, però in generale la riproduzione dei colori è abbastanza fedele. Anche queste immagini che utilizziamo per valutare il livello di saturazione del display viene riprodotta abbastanza bene. Parte critica di questo display sono i neri e gli angoli di visione che sono abbastanza scarsi. Per il resto la risoluzione può sembrare bassa, però il polliciaggio è anche basso, quindi la definizione non è poi così male. Parliamo di fotocamera, quindi restiamo nella parte multimediale. Abbiamo una 5 megapixel, scattiamo al volo una foto, questo è il nostro alimentatore. Messa a fuoco che non è rapidissima, come potete vedere, adesso devo tappare io. Scatto invece è abbastanza rapido. Qua a sinistra abbiamo tutte le impostazioni, quindi la possibilità di gestire l'ISO, bilanciamento del bianco, la risoluzione che si ferma ai 5 megapixel, come ho già detto, riprese che vengono effettuate in 1080p. Qua in basso abbiamo tutte le modalità di scatto, HDR, panoramica, notturna, eccetera. Parliamo invece dei risultati. Fotocamera, insomma, che non è di alto livello, si ottengono buoni risultati se effettuiamo macro in buone condizioni. Di notte, anche l'assenza del flash LED si ottengono risultati abbastanza scarsi. Se vi prendo una foto effettuata di sera, potete vedere come sia molto molto sgranata e ci sia molto rumore digitale. Una fotogamera che io do 5-5,5, ho anche i video. L'autofocus è abbastanza veloce nei video, il suono catturato è buono, però la qualità dell'immagine non è di alto livello, diciamo. Parliamo adesso di sempre multimedialità, quindi di musica. Un attimo per testare l'altoparlante. Parliamo la nostra solita canzone di test. Avete sentito l'audio non è altissimo, non gracchia, un'altoparlante sufficiente. Ripeto, la qualità che si riesce ad ottenere tramite le cuffie è veramente eccezionale. Concentriamoci ora sulla parte browser. Parliamo di browser stock. Abbiamo anche Chrome inserito, tutti e due sono veramente molto veloci. Non abbiamo problemi di alcun tipo. Cosa che mi piace molto di questo browser è la possibilità di muoverci con un cursore all'interno della pagina internet. Vi faccio subito vedere. Come potete vedere, questo è il cursore. Ci possiamo muovere senza alcun problema in maniera molto molto rapida. Se effettuiamo pinch to zoom veloci, non abbiamo rallentamenti. Come potete vedere. Un browser che secondo me non ha grossi problemi. Siamo sul Corriere che è un sito pesante. Il rendering non è velocissimo, però parliamo di dispositivo con caratteristiche hardware low cost. Parliamo ora di mail, di tastiera. Il client a me piace davvero molto. Il design è stato ben studiato, ben riuscito. Offre un'ottima produttività. Possiamo rispondere tranquillamente alla mail. Possiamo inoltrarle tranquillamente. La tastiera invece non è di alto livello. Accediamo al menu messaggi. Vi faccio vedere subito. Questa è la tastiera. Piuttosto piccolina. Come vedete sto facendo abbastanza errori. Adesso no, però la tastiera è piuttosto piccola. Non mi piace il fatto che qui per cambiare, per accedere al menu dei numeri e dei simboli, il tastino sia troppo piccolo e molto vicino al tasto per cambiare lingua. Molto spesso quando andiamo a schiacciare il pulsante per accedere al menu dei numeri, andiamo per schiacciare quello della lingua e quindi ci ritroviamo con la lingua, penso sia la tavolese forse, quindi secondo me non è una tastiera molto buona. Ovviamente su Android ci sono tante tastiere alternative, quindi il problema non si pone. Anche qui il menu dei messaggi ben studiato, secondo me è ben riuscito. Tutta l'interfaccia è coerente, molto veloce. La ZenUI è una delle interfacce che ho provato migliori di Android. Parliamo velocemente di benchmark di giochi. SonTutu otteniamo un punteggio di 18.000 che si allinea agli altri low cost. Ho provato Dead Trigger a fondo, devo dire che non è un dispositivo adatto ai videogiochi. La scheda grafica potrebbe fare molto di più, però non so se è ottimizzazione software. Il dato di fatto è che c'è un caldo di framerate molto evidente. Aspettiamo il caricamento. Siamo riusciti a caricare il gioco dopo una lunga attesa. Non ho cancellato nulla dalla memoria RAM, quindi vediamo come gira il gioco. Vi ripeto, tempi di caricamento molto lunghi. Aspettiamo ancora un attimo. Temo per vedere come il discorso angolo di visione è piuttosto presente. Per vedere ci sono molti problemi, soprattutto su questo asse. Ok, abbiamo conclusato il caricamento. Possiamo giocare. Verifichiamo un attimo il livello grafico. Siamo a basso. Riprendiamo. Ok. Potete vedere subito come ci siano molti, molti lag. Potete vedere, molti scatti. Per carità il gioco è giocabile, però gli scatti sono molto evidenti. Come potete vedere, c'è un framerate piuttosto basso. Ok, usciamo. Avete visto, non ho cancellato assolutamente niente dalla memoria. Non è un gioco adatto ai videogame, avete capito. Un dispositivo che si trova ad un prezzo attorno ai 120 euro. Secondo me, se costasse un pelo meno, sarebbe un dispositivo da tenere in considerazione. Perché è comunque un dispositivo veloce, che fa bene il suo lavoro. Quindi preferisco avere un dispositivo veloce, che non si impianta, che avere un dispositivo con caratteristiche hardware eccellenti, ma che nell'utilizzo quotidiano offre grossi problemi. Abbiamo una batteria, insomma, forse sottodimensionata. Facciamo fatica a raggiungere le tre ore di schermo acceso, soprattutto se utilizziamo il 3G. È un dispositivo, vi ripeto, veloce. Ottimizzato, secondo me, molto bene. Non abbiamo impuntamenti, soltanto nei giochi abbiamo qualche problemino. Ma che l'utilizzo quotidiano dà grosse soddisfazioni, secondo me. Non abbiamo impuntamenti, l'ho utilizzato come primo telefono, per quasi un mese. Devo dire che non ho avuto crash, non ho avuto impuntamenti, l'avete capito ormai. Se, ovviamente, siete persone che preferiscono avere caratteristiche hardware superiori, ma comunque un'utilizzazione peggiore, questo non è il dispositivo che fa per voi. Io lo consiglio, comunque, se lo riuscite a trovare ad un prezzo inferiore di 20 euro, lo sommai sarebbe anche meglio, però è un dispositivo da tenere in considerazione. Vi invito a condividere i video, a commentare, lasciare un mi piace, ovviamente se il video vi piace. Ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Leonardo Girandola per GZ Mobile. Ciao!